Allora, siamo con Miniscalia, quattordicesima edizione del premio Angelo Musco, grazie intanto a Miniscalia per questo videocollegamento che appunto viene fatto in maniera molto estemporanea poco prima della serata di questa sera, la quattordicesima edizione inizia del 29 luglio, sarà un'edizione particolare, quella di quest'anno chiaramente, però si è riuscita a fare? Sì, perché è stata la mia forza di volontà, perché proprio lo volevo fare, ho avuto comunque il supporto da parte dell'amministrazione di Milo e anche del sindaco Alfio Cosentino, abbiamo, prima non ci abbiamo proprio pensato, poi quando un po' le cose si sono riaperte ho detto, ma allora che facciamo? Lo facciamo? Non lo facciamo? Cerchiamo di farlo, naturalmente non essendoci bando abbiamo, come possiamo fare una piccola rassegna, perché comunque non aveva senso fare solo la serata finale, la rassegna comunque ci vuole, perché comunque è il tema, se vogliamo capire che stiamo ricominciando, che tutto, cerchiamo di fare quelle cose almeno con una parvenza di normalità, una rassegna teatrale ci voleva, in inverno si fa una rassegna teatrale a cura della Filocomica Sant'Andrea, che questo gruppo mi aiuta nell'organizzazione del premio già da un po' di anni e dall'8 marzo le compagnie non hanno potuto più recitare e abbiamo scelto, abbiamo chiesto alle compagnie dall'8 marzo in poi che dovevano venire qua a Milo, se la sentivano di fare lo spettacolo con noi e il giù al teatro, non tutte hanno aderito, non tutte hanno accettato, perché o perché gli attori si spaventavano o perché non si riusciva a trovare neanche il numero degli attori per poterlo fare, alla fine siamo riusciti a racimolare 3 compagnie, di coraggiose io li chiamo, sono delle compagnie coraggiose che hanno detto va bene, sì veniamo e quindi stiamo facendo questa piccola rassegna, però la migliore compagnia, un'attrice, un'attore verranno scelti dal pubblico, ogni sera loro hanno le chiede e scelgono sia il voto che vogliono dare alla compagnia, sia l'attore o l'attrice che li ha particolarmente colpiti, chi prenderà più voti vincerà naturalmente, poi però soltanto queste 3 compagnie no, allora facciamo una seconda parte della serata che riguarderà il meglio di, il meglio delle passate 13 edizioni del premio Angelo Musco, quindi una compagnia particolare, un attore che ci ha particolarmente colpito, un'attrice, una regia, saranno proprio 4 premi dati a un'attrice, un attore, un regista e una compagnia e questo è costo. Sicuramente la premia edizione avverrà durante la serata finale del 1 agosto, Mimisca lì appunto è la direttrice artistica del premio da diversi anni, noi siamo diciamo col punto punto web, siamo in pausa estiva, però abbiamo voluto fare appunto questa intervista singola, data l'importanza chiaramente del premio e l'importanza rivestita dal premio a Milo, ma non soltanto a Milo appunto perché è un premio che ogni anno vede la partecipazione di tantissime compagnie e un premio che richiede una lavorazione veramente di mesi, una preparazione di mesi. Il fatto che anche quest'anno, seppure in questa forma ridotta, si sia potuto fare chiaramente è segno di una struttura alle spalle di professionisti, chiaramente. Quindi durante appunto la serata del 1 agosto ci saranno questi premi speciali e in questo caso sarà la zuria quindi ad assegnare questi premi. Abbiamo fatto una riunione un paio di giorni fa e abbiamo scelto quello che poteva essere rappresentativo dei 13 anni del premio Angelo Musco. Questa è stata la funzione. In più poi la giuria mi ha aiutato sia all'organizzazione, faranno anche qualche chicca, qualche partecipazione nel corso della serata perché praticamente per far vedere comunque che la giuria è presente, sono sempre amici, tutti affezionati anche loro da tantissimi anni al premio e quindi mi sembrava giusto che comunque anche loro dovevano dare la loro, avere anche loro la visibilità ecco durante la serata finale. E poi vedrà appunto una conduzione speciale, una conduzione affidata a Miniscalia e a... Io stanno presento, non aiuto, io stanno presento però ho un compagno. Chiaramente è un artista di grande spessore. Sì, sarà Mario Incudine che quando gliel'ho proposto un po' così, io ti faccio una proposta indecente, ho detto tu sei libero l'1 agosto perché io prima partivo da questo discorso cioè se bisogna essere liberi quel giorno, ho detto sì sono libero e allora dico vuoi presentare con me, non te l'hai fatto dire due volte e l'unica cosa che mi ha detto dice ma allora posso improvvisare, mi lasci libero di fare quello che voglio? Ho detto sì, perché lui praticamente ama improvvisare anche l'anno scorso quando lui è stato premiato come miglior, come diciamo come prima alla carriera, lui si è messo a fare serenate, si è messo a ballare, lui è un improvvisatore e quindi sicuramente sarà una serata molto 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 bella, sicuramente, particolare. Ninni, questa sera invece cosa ci sarà? Questa sera, ieri c'è stata la prima serata, è stata una compagnia di Santa Venerina perché ecco, una piccola parentesi, gli altri anni venivano da tutta Italia, quest'anno quale da tutta Italia, proprio neanche da dietro casa si può dire e quindi questa compagnia di Santa Venerina che ha accettato volentieri, hanno fatto io, hanno recitato io, Alfredo e Valentino, una compagnia veramente divertentissima, ieri il pubblico è stato felicissimo. Questa sera ci sarà invece la compagnia di Acicatena che è presente un classico che è il Gatta Cicova e domani una compagnia di Catania che è il Belvedere con Casa Campagna, queste sono le tre compagnie, di amici e di coraggiosi, continuo a ripetere, coraggiosi sicuramente. E la partecipazione ieri sera com'è stata? Allora, diciamo, un buon numero, però certo non i numeri degli altri anni e dobbiamo essere realisti, è inutile che gli altri anni hanno sicuramente molto di più, io spero sempre perché la serata iniziale è sempre quella un po' più lenta, poi andavano aumentando, però andavano aumentando in cinque serate, quindi qua ce ne sono solo tre, però visto che ho tantissime persone ieri magari che gli è piaciuto, dice domani torniamo, domani torniamo, domani torniamo, quindi oggi sicuramente ci sarà una partecipazione maggiore. E poi dalla mia c'è una cosa che mi fa felice, che c'è caldo e il piccolo caldo sarà giorno 1, quindi se volete venirvi a prendere un po' di fresco venite a Milo. Infatti, infatti, quindi anche insomma le condizioni meteo invitano a venire a Milo, quindi Infatti, infatti, poi sempre al solito il costo del biglietto è 2 euro, quest'anno proprio perché c'è il discorso del distanziamento, del post assegnato, sono costretta a fare anche i 2 euro anche per la serata finale, ma non è quello diciamo il problema, perché 2 euro voglio dire sono una cifra simbolica, più per, anche in quel caso, per dare un incentivo maggiore al premio, ecco. Sei, in questo momento, dove ti trovi? Nella piazza di Milo? Sì, nella piazza di Milo, si stavano facendo una riunione pre-scaletta con i giurati e abbiamo interrotto un attimo e poi ricominciamo perché poi alle 8, 8, 8 e un quarto, devo scendere sotto perché devo far vedere che ci sono anche questa sera giù al teatro. Facca Polino ha anche il vostro detto stampa, grazie a Calanna, la salutiamo perché vedevamo insomma il capello che faceva. Non ci vengo più io, sono sparita. Grazie, infatti, per il lavoro di comunicazione che fa grazia e ricordiamo anche i nomi dei giurati. Ah, allora, quello è un problema. No, perché io non posso parlare. Allora, no, praticamente c'è, vabbè, il presidente di giuria che è l'avvocato Zappulla, Enzo Zappulla, la professoressa Sara Zappulla Muscarache, però loro due, tenendo conto tutti i problemi che ci sono stati, sono vicini con noi, però materialmente non verranno quella sera, mi hanno mandato un messaggio carinissimo, però si spaventano, hanno un'età e quindi non ci saranno. Per questa, vediamo, sperando che le cose un po' si sistemano per l'anno prossimo, però loro hanno un po' paura e io rispetto le loro decisioni. e poi c'è sempre gli storici Agostino Zumbo, Turi Giordano, Fabio Costanzo, poi c'è Luciano Patanè che è in rappresentanza del Comune di Milo e l'avvocato Gianfranco Barbagallo che è proprio avvocato specializzato nel diritto del mondo dello spettacolo, degli attori e quindi è una persona qualificata comunque anche lui per fare parte della giuria. Bene, quindi questa sera e domani iniziano alle 20 e 30 di spettacoli? No, allora iniziamo alle 21, il bottiglino apre alle 20 perché si va un po' più a rilento perché dobbiamo prendere i nomi e i numeri di telefono di tutti quelli che entrano, il Covid è detta legge, quindi non possiamo fare altrimenti. Quindi oggi e domani 21, l'anfiteatro di Sordana di Milo, giusto? Sì. Ok, e poi la sera giornale, sabato 1 agosto, sempre alle 21, sempre lo splendido scenario dell'anfiteatro comunale di Sordana di Milo. Grazie allora, grazie a te, per aver portato avanti anche questa edizione con tutte le difficoltà connesse e speriamo insomma di vederci a Milo, spero di salire insomma almeno per... Grazie e viva il teatro sicuramente. Viva il teatro sempre, sempre. Grazie, arrivederci, buona serata. Grazie.